Buon pomeriggio, so che oggi c'è un appuntamento importante, la conferenza stampa relativamente al protocollo d'intesa tra RCS Sport e Anci, so che c'è l'amico Roberto Pella, vicepresidente vicario di Anci, tra l'altro ho scoperto che ad Anci hanno aderito, sono affiliati la bellezza di 7134 comuni, quindi il 90% abbondante dei comuni italiani, il presidente Antonio De Caru, una conoscenza, una vecchia conoscenza, quindi insomma saluto tutti. Diciamo che oggi è un giorno importante perché questa unione, questa intesa tra noi e Anci, tra RCS Sport e Anci, è sicuramente un'intesa utile a far crescere quella che è la valorizzazione del territorio italiano, che è un territorio bellissimo, il nostro è un paese bellissimo, che ha addirittura il 70% del patrimonio artistico e culturale del mondo e quindi merita sicuramente di essere molto valorizzato, è quello che noi intendiamo fare e facevamo già, ma vorremmo fare meglio ancora da questa unione con Anci, anche nella scelta magari dei borghi, dei comuni da mostrare appunto nelle tappe del Giro d'Italia, ma anche del Giro Next Gen, il Giro dei Giovani o anche del Giro E, quindi insomma è proprio un'unione tra noi e d'Anci proprio volta a valorizzare, a mostrare il meglio dell'Italia, quello che noi riteniamo il meglio dell'Italia, l'Italia oggi è al quinto posto nel mondo, nel ranking del mondo come paese più visitato, siamo quinti con 65 milioni di persone, turisti stranieri che vengono in Italia, la prima è la Francia, la seconda è la Spagna, la terza l'America, gli Stati Uniti e la quarta è la Cina, ecco noi credo che con le bellezze che abbiamo, con la ricchezza di posti meravigliosi, con il 70% del patrimonio artistico e culturale che c'è nel mondo, meritiamo certamente anche di più, dobbiamo ambire a scalare la classifica, perché no, anche per puntare decisamente al primo posto, visto che insomma la distanza c'è, ma è una distanza sicuramente colmabile. Tra l'altro c'è una ricerca di Banca Ivis, molto bella, molto interessante, che dice come l'impatto economico del Giro d'Italia sul nostro paese, sull'Italia, sia un impatto veramente straordinario, qualcosa come 2 miliardi di euro di ricadute economiche sul territorio italiano, tra coloro i quali seguono direttamente le tappe e quindi poi consumano sul territorio o coloro i quali ritornano per essere stati a vedere le tappe o vengono per aver visto le tappe in televisione nei tanti paesi del mondo in cui trasmettiamo il Giro d'Italia. Parliamo di qualcosa come 200 paesi del mondo con 700 milioni che vedono il Giro d'Italia, quindi numeri veramente incredibili. Il Giro d'Italia è un grande media, è un media incredibile che ha la possibilità di far vedere il nostro bellissimo paese in tutto il mondo. Credo che noi insieme a Danci abbiamo un grande obiettivo di crescere e di crescere in maniera notevolissima con quelli che sono i turisti che vengono a visitare appunto il nostro paese. C'è di con voi Paolo Bellino che certamente vi dirà e vi racconterà tutta una serie di dettagli molto importanti relativamente appunto anche alla ricerca di Banca IFIS. Io vi saluto, spero di vedervi in una prossima occasione e sempre forza Giro d'Italia. Grazie.